Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido. Ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire, signore, signore, aprici. Ma egli rispose, in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Pace e bene a tutti voi, carissimi amici. Ci avviamo ormai verso la conclusione di questo anno liturgico e la liturgia della parola della 32esima Domenica del Tempo Ordinario anticipa per certi versi il tempo dell'attesa per eccellenza, qual è l'avvento con cui si aprirà il nuovo anno liturgico il prossimo 3 dicembre. E con il nuovo anno speriamo anche un'era di pace e di tranquillità, nonché di vittoria sul male che sta affliggendo gravemente alcune zone geografiche del nostro pianeta. Bene, in questa domenica riascolteremo nel brano del Vangelo la parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte. Una metafora, potremmo dire, della vita stessa dell'uomo che decide di essere disponibile oppure no alla volontà di Dio. La saggezza e la stoltezza rappresentano proprio questi due diversi atteggiamenti dell'uomo di fronte alla volontà di Dio. Nel racconto è detto che tutte e dieci le vergini, sia le sagge che le stolte, uscirono per andare incontro allo sposo con le loro lampade, ma evidentemente solo cinque di loro furono previdenti, cioè sagge presero con loro l'olio di riserva e riuscirono ad incontrare lo sposo. Le altre cinque invece per la loro negligenza, per la loro superficialità, per la loro disattenzione e per la loro stoltezza non riuscirono ad entrare con lo sposo alle nozze, perché le loro lampade erano spente. Lo sposo si fa tendere, ma a mezzanotte, ascolteremo, si levò un grido, ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini, che nel frattempo si erano assopite e addormentate, si destarono e prepararono le loro lampade. Ma ahimè, come ho già detto, le vergini stolte si accorsero di non avere più olio. Allora credettero bene di chiederne un po' alle altre vergini, quelle che avevano portato invece con loro una scorta. Ma ancora una volta queste si dimostrarono sagge e risposero no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Queste vergini poverine fanno il tentativo di comprare dell'altro olio dei venditori, ma nel frattempo lo sposo arriva e le vergini sagge entrarono con lui alle nozze, mentre quelle stolte trovarono la porta chiusa. Quindi cominciarono a gridare dietro la porta, signore, signore, aprici. Ma lo sposo rispose, in verità vi dico, non vi conosco, vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Vegliate dunque perché non sapete nel giorno né l'ora. È un monito forte questo che spiega anche tutto il senso della parabola. Gesù ha voluto dire ai Suoi discepoli, ma anche a noi oggi, che bisogna essere pronti in ogni momento all'incontro con Lui. È un invito ad essere saggi e ad avere sempre pronto il vasetto dell'olio per alimentare la lampada della nostra fede. La nostra deve essere allora una vita di fede autentica. Se la esercitiamo con forza insieme alla speranza e alla carità, lo sposo non ci troverà impreparati quando arriverà e ci inviterà ad entrare con Lui nella stanza delle nozze. Dobbiamo essere previdenti, carissimi amici come le vergini sagge, saper vivere l'attesa, ma soprattutto saperci guadagnare quell'olio di scorta che ci farà trovare pronti in qualsiasi momento quando lo sposo deciderà di arrivare per iniziare la festa di nozze. Pace e bene e buona domenica a tutti. Grazie.